Salve, vi abbiamo inviato questo video, per farvi conoscere meglio il tour virtuale, e darvi alcuni numeri sulle potenzialità di questo strumento, nonché quello dei video marketing. Ecco perché il tour virtuale è un vantaggio competitivo, è fruibile e facilmente integrabile sul vostro sito web, ma la cosa più importante, è stare su Google Maps. Grazie ad esso, chiunque con un cellulare o con un computer può trovarvi sulla mappa e vedere l'interno della vostra attività. In questo modo il cliente si sente rassicurato, perché può vedere gli interni come dal vero. Anche i più scettici possono testare l'atmosfera del locale cercato. In più, potete inviare ai vostri clienti il link del tour direttamente sulla mail, o whatsapp, facebook o sms. Basterà cliccarci sopra, e il tour si aprirà immediatamente. Potrete scegliere anche l'inquadratura preferita con la quale fare iniziare il tour. Alcuni dati. Quando cercano un'attività, i consumatori si affidano a servizi di mappe nel 44% dei casi. Le scade provviste del tour virtuale suscitano il doppio di interesse. In media il 41% di queste ricerche, portano ad una visita in loco. In una città media di 100.000 abitanti, un ristorante ad esempio può arrivare alle 10-15.000 visualizzazioni annue. Parliamo ora del video marketing. Ogni giorno le persone passano più di due ore sul cellulare nel 70% dei casi. Il 26% arriva quasi alle 7 ore. Giornalmente, vengono viste su YouTube 5 miliardi di ore di video, e caricate ben 300 ore al minuto. Ecco i numeri che indicano senza ombra di dubbio l'importanza ormai che ha un video per promuovere la propria attività. Altri dati. Il video converte più di qualsiasi altra cosa. Il 64% dei consumatori, dopo aver visto un video, sono più propensi ad acquistare un prodotto. Quando un video viene incluso in una mail, il CTR sale del 300%. Promuovere il vostro business è il nostro obiettivo. Non esitate a contattarci, saremo lietissimi di soddisfare ogni vostra esigenza. Buona giornata e buon lavoro.